Il MoVimento 5 Stelle Buonasera dal TGT Guglio, parliamo dell'ospedale di Rappallo, privatizzato il 44% dei posti letto a dire il MoVimento 5 Stelle che sul tema organizza un incontro domani sera. Il MoVimento 5 Stelle organizza un incontro per discutere dell'ingresso dei privati nell'ospedale di Rappallo. L'appuntamento è per domani, giovedì 9 gennaio alle ore 21, nella sala conferenza dell'hotel Europa. Saranno presenti il consigliere regionale Fabio Tosi e la consigliera comunale Isabella De Benedetti. I pentastellati invitano la cittadinanza a partecipare e sottolineano come sarà di fatto privatizzato il 44% dei posti letto disponibili. La metà del nosocomio costruito con i lasciti dei cittadini, afferma Tosi, sarà consegnato ai privati. Tosi ricorda anche l'ordine del giorno approvato all'unanimità alla fine del 2017 a favore del potenziamento del punto di primo intervento dell'ospedale di Rappallo all'epoca, salutato come una grande vittoria per tutto il comprensorio del Tiguglio. Quello che avrebbe potuto garantire un miglioramento del servizio e rendere più efficiente la sanità a Rappallo, afferma ancora Tosi, è rimasto lettera morta. La Polizia Ferroviaria della Liguria ha diffuso i numeri dell'attività di controllo svolto in occasione delle recenti festività di Natale. Il periodo è quello che va dal 18 dicembre al 7 gennaio e si parla di un arresto, 2.538 persone identificate di cui 21 indagate, 92 treni scortati, tra i quali 12 a lunga percorrenza e 585 servizi di vigilanza all'interno degli scali ferroviari. Nel bilancio figura anche il ritrovamento di due minorenni di origine straniera, riaffidati poi alle strutture che li hanno in tutela. Andiamo a Bogliasco, agriturismo taglia 8 olivi secolari, il fatto è stato scoperto dai carabinieri forestali di Rappallo. Il titolare di un'azienda agricola e agroturistica di Bogliasco è stato multato dai carabinieri forestali di Rappallo con una sanzione di 2.752 euro per avere estirpato 8 alberi di olivo secolari senza l'autorizzazione dell'ente regionale competente. Lo hanno evidenziato i carabinieri spiegando che la strage di olivi è stata scoperta nel corso delle attività di controllo a livello provinciale coordinata dal gruppo carabinieri forestali di Genova, che pone particolare attenzione al fenomeno del dissesto idrogeologico che negli ultimi tempi ha interessato tutta la Liguria. I controlli già in atto continueranno nei vari comuni e nelle prossime ore porteranno alla identificazione di altri soggetti trasgressioni di violazione ambientale in tema di gestione di rifiuti. Il comune di Santa Margherita Ligure si appresta ad adottare un sistema informatizzato per la gestione delle sedute del Consiglio Comunale. Il progetto prevede che tutte le attività relative alle sedute di Consiglio diventino digitali e pertanto gestite a livello informatico. Questo consentirà la condivisione dei documenti ai partecipanti, la gestione degli interventi, la trascrizione dell'audio, la diretta streaming e la divulgazione sui social. Si renderà necessario dunque anche un restyling dell'aula consigliare. Telecom Italia, per un importo di quasi 20.000 euro, fornirà la piattaforma gestionale e avverrà una prima fase di informatizzazione. Questo progetto, affermato il sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni, consente un migliore controllo dei procedimenti, una più razionale e condivisione delle informazioni, un efficientamento delle tempistiche, un minore consumo di carta e un alleggerimento del carico di lavoro riguardante la gestione delle sedute stesse. Andiamo in Val Petronio, a Casalza Ligure, un comune plastic free. Vediamo di che cosa si tratta. Casalza Ligure potrebbe diventare un comune plastic free. Il consigliere comunale di minoranze, capogruppo del Partito Democratico Andrea Telchime, ha presentato una mozione che invita l'amministrazione comunale in carica a prendere esempio da quanto già fatto a Sestri. La mozione richiama la campagna Plastic Free Challenge, promossa dal Ministero dell'Ambiente, e pone come obiettivi finali la tutela dell'ecosistema e della salute umana. Se approvata, la mozione impegnerà il sindaco e la giunta ad adottare una serie di misure, sia all'interno dell'amministrazione comunale che dirette ad operatori e abitanti del paese della Val Petronio. Dovrà essere eliminato, ad esempio, l'utilizzo di prodotti usa e getta in tutte le iniziative patrocinate dal comune. Dovrà essere promosso l'utilizzo delle casette dell'acqua e dovrà essere consegnata ai ragazzi delle scuole elementari e medie una borraccia in acciaio al fine di ridurre l'utilizzo di acqua in bottiglia. A Moneglia sono previste sei notti di chiusura per la strada comunale di via per Lemeglio, questo perché devono essere terminati i lavori di posa di una condotta idrica. La strada chiuderà dalle 23.05 del mattino successivo, da località Posato, fino all'inizio della frazione di Lemeglio. Due chiusure sono previste questa settimana, nella notte tra oggi e domani, e in quella successiva la strada poi resterà chiusa le prime quattro notti della prossima settimana. Boom di presenze turistiche durante il Natale in Liguria. È un bilancio positivo quello delle presenze in Liguria in occasione delle festività di Natale. Aspettiamo la conferma dei dati ufficiali che arriveranno il mese prossimo, ha fermato l'assessore regionale al turismo Gianni Berrino, ma i feedback che arrivano dagli operatori non lasciano dubbi. Il fine settimana dell'Epifania, ad esempio, ha fatto registrare alberghi pieni all'80%, in particolare nelle località costiere più rinomate, tra le quali quelle del Golfo del Tiguglio. Il nostro lavoro per destagionalizzare il turismo ha dato i suoi frutti, aggiunge il presidente della regione Giovanni Totti. Il 2020 sarà il nostro anno, l'anno di chi ci crede e lavora per il bene della nostra terra. Soddisfazioni arrivano anche dal mondo social, il profilo Instagram Chiocela Turismo in Liguria, e secondo, dietro il Trentino Alto Adige, per numero di like ottenuti dai post pubblicati nel 2019, tra tutti i profili delle regioni italiane dedicati al turismo. Parliamo di cariche di nomina di un consiglio dell'ente parco di Portofino. Il commissario ed ex presidente Paolo Donadoni fa sapere di aver incontrato il direttore Federico Marenco per verificare i profili procedurali relativi alla gestione dell'ente in vista della convocazione della comunità dell'ente parco e del rinnovo degli organi, al fine di superare la fase monocratica e accelerare il processo partecipativo. Parliamo di calcio, un fulmino a ciel sereno, ma neanche tanto forse. Il Real Fieschi si ritira dal campionato di promozione e sparisce dunque la squadra di San Salvatore di Cogono, che era stata fondata nel 2012. Il Real Fieschi sparisce. Con uno scanno comunicato sulla propria pagina Facebook, la società ha annunciato ieri sera l'accessazione dell'attività, decisa dall'Assemblea straordinaria dei soci. Nel corso della riunione è stata presentata la relazione finanziaria di bilancio e il presidente Andrea Levaggio ha annunciato le proprie irrevocabili dimissioni. L'Assemblea ne ha preso atto, votando lo scioglimento del club. Il Real Fieschi viene dunque posto in stato di liquidazione. La società era nata nel 2012, con sede a San Salvatore di Cogono. Partendo dalla terza categoria, era arrivata fino alla promozione. Nella stagione in corsa aveva chiuso il girone ed è andata al dodicesimo posto, in lotta per la salvezza. Il campionato di promozione resta dunque con 15 squadre. Tutte le partite finora giocate da Real Fieschi vengono annullate e la classifica ora è riscritta. I giocatori invece vengono automaticamente svincolati. Però vi dobbiamo rendere conto di una brutta notizia. Lutto a Chiavari e non solo per la scomparsa di Raffaele Lele Givland. Era stato per molti anni direttore del centro di recupero Chiarella di Chiavari. Domani alle ore 19 nella camera mortuaria dell'ospedale di Lavagna sarà recitato il rosario. Venerdì alle 15 nella chiesa dei frati di Via d'Etappani invece i funerari. Ovviamente ai familiari, in particolar modo all'amico e collega giornalista del nuovo Levante Davide Givland. Le condoglianze di Entella TV. Sabato 4 gennaio è incominciato il periodo dei saldi e nel primo weekend dedicato a questa iniziativa sicuramente si è registrato già un buon flusso di persone, buoni incassi e buona attenzione soprattutto rivolta ai negozi che fanno questa iniziativa. Certamente la segnalazione da fare è che tra il Black Friday fine di novembre e i saldi chi ne ha pagato sicuramente un po' lo scotto di queste due iniziative scontistiche è certamente il Natale. La formula del saldo va rivista proprio in funzione del fatto di questa nuova entrata in questi ultimi anni del Black Friday che fino a pochi anni fa non veniva effettuata, non si effettuava tra i negozi della nostra città. E questo quindi è un punto fermo per cercare di riverificare e quali possono essere le formule per dare di nuovo l'infa a questa iniziativa che probabilmente è un po' da rivedere, da riformulare. Certamente non va incontro alle attività che hanno una conduzione familiare, a negozi piccoli dove naturalmente fanno più fatica a far fronte a questo tipo di iniziative così continue e così ripetute. L'invito comunque in questo periodo è naturalmente quello di frequentare le vie del centro, le vie della città in generale per fare acquisti o comunque per vivere in questa realtà. Il Comune di Chiavari patrocina un'iniziativa davvero lodevole organizzata da partecipativa venerdì 10 gennaio a Casa Caritas, ovvero l'opportunità di partecipare a una convention sui rischi e opportunità legati al 5G. Ce ne parla il nostro vice sindaco Silvia Stanic. Un'occasione veramente importante organizzata da partecipativa, lo dico anche con un po' di orgoglio, che anche come assessora della cultura mi sento veramente di abbracciare al 100%. Sarà l'occasione per fare chiarezza su un tema di cui si parla e sparla anche troppo. Quindi è necessario mettere veramente a fuoco determinati argomenti e lo faremo con persone veramente preparate, con personaggi di grande spicco e rilievo nel mondo universitario della sanità e della politica, proprio per avere le idee più chiare e poi fare le proprie valutazioni. Ovviamente sarà uno spazio di incontro, di confronto, direi che la natura è proprio quella di fare cultura e quindi di dare delle informazioni il più possibile precise e diciamo trasparenti senza lasciare troppo spazio alla polemica perché ritengo che in questo caso sarebbe proprio sterile. E quindi un appuntamento importante a cui partecipare assolutamente venerdì 10 gennaio alle ore 17.30 al Teatro Caritas di Via Marana. Andrea Torchio di partecipativa. Questa mattina presentate un convegno che si svolgerà il 10 di gennaio su il 5G. Quindi andiamo a sfattare delle fake news o delle mezze verità e cerchiamo di capire se si parla di rischi o di opportunità. Sì, appunto. Il 5G ormai è una realtà, nel senso che a breve avremo questa tecnologia a disposizione di tutti. Sappiamo però in realtà che cos'è il 5G. No, abbiamo delle idee. Abbiamo delle idee e spesso confuse. Magari andiamo dietro a verità che troviamo su internet e non si capisce bene in realtà cosa sia il 5G. Noi con questa conferenza vorremmo capire, grazie alla presenza di relatori di fama internazionale, di che cosa stiamo parlando. Vogliamo far sì che le persone si possano fare un'idea concreta di che cos'è il 5G grazie all'intervento di questi relatori. Ecco, avremo quella sera relatori che ci forniranno un'idea a 360 gradi di cosa sia il 5G. Tanto per iniziare abbiamo i saluti del sindaco e di Roberto Traversi e poi inizieremo con un rappresentante di ARPAL, un dirigente, che ci spiegherà il quadro normativo all'interno del quale queste tecnologie verranno installate. Dopodiché avremo l'intervento di ASTEL, che è l'associazione che riunisce le compagnie telefoniche di Confindustria, che sicuramente ci spiegherà quali sono gli aspetti positivi di questa tecnologia. Poi avremo due interventi che andranno a esaminare quali sono i possibili effetti sulla salute di queste esposizioni alle onde elettromagnetiche e uno è tenuto dalla dottoressa Belpoggi dell'Istituto Ramazzini, che ha portato a termine uno dei due studi al mondo sugli effetti del 5G, sulla salute delle persone. L'altro è portato dalla dottoressa Carmela Marino, che è dell'Enea e dell'ICMRP, una sigla difficilissima, comunque è un'agenzia europea che studia gli effetti sulla salute delle onde elettromagnetiche. Quindi avremo un intervento della dottoressa Denise Amram, della scuola superiore normale di Pisa, che tratterà quelli che sono gli aspetti legati alla cyber security, quindi alla gestione dei dati che comporta problematiche maggiori rispetto all'attuale con il 5G e poi ci sarà la chiusa da parte di un politico, ossia il dottor Campomenosi, che ci spiegherà come queste scelte che sono state prese a livello europeo poi abbiano degli effetti anche su delle cittadine come Chiaveri, Lavagna, Sesti Levante. Quindi lo scopo è quello di fornire dei dati sui quali le persone possano crearsi un'idea. Non leggere una pagina da internet e diventare degli esperti quando poi nella realtà le cose che si sanno sono poche. Cerchiamo di farci un'idea e cerchiamo di farcela avvenendo ad ascoltare chi queste cose qua le conosce veramente. Io vi invito tutti, secondo me è una bella occasione per Chiaveri e ospitare gente di questa cultura, di questa capacità. Allora, ecco. Primo weekend di gare, ho polto numero di atleti e tutto bene? Tutto benissimo, ieri con 158 iscritti in slalom, oggi 313 in gigante, di cui 113 bambini da baby sprint, baby e cuccioli. Ci ha aiutato il tempo perché è una giornata meravigliosa, temperatura ideale. La tracciatura perfetta è di bisogno di dire grazie alla stazione che ha lavorato bene e un grazie a tutti gli allenatori, che sia nostri che degli ADC Club, che si sono dati da fare correttamente. Nessun problema e speriamo che le prossime siano uguali. Nelle prime due gare di quest'anno il livello è aumentato di tantissimo, specialmente negli allievi e ragazzi ha fatto un salto di qualità, grazie anche alla preparazione che il comitato ha voluto fare con i cibili. Si aggiudica il trofeo per società, con 1844 punti, la squadra dei fantastici quattro, i coach più belli di Prato Lovoso, il Prato Lovoso Gamgenera! Buongiorno a tutti i ragazzi! Con calma la velocità che vuole, con calma eh! Allenatur! Buongiorno signorita! Com'è? Siete cariche? Fantastico! Buongiorno a tutti i ragazzi! Buongiorno a tutti i ragazzi! Buongiorno! 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 Prima gara del campionato regionale è andata bene? Molto bene, è andata alla grande, un ottimo risultato, le ragazze sono comportate benissimo, abbiamo avuto un po' di difficoltà anche quest'anno con la neve, tanti chilometri non tanti allenamenti ma un ottimo risultato, contentissimo della prestazione dei miei atleti Speriamo la neve a Santo e la gara nostra... Speriamo venga tanta neve e di poter fare la nostra gara a casa sulle nevi di Santo Stefano e speriamo di ottenere un buon risultato anche lì Previsioni per domani, giovedì 9 gennaio Cielo sereno, poco nuvoloso, durante la giornata addensamenti consistenti, in serata possibili deboli piogge Venti deboli meridionali, localmente ancora variabili al mattino, tendenti a rinforzare in serata Mare poco mosso, in aumento alla sera Umidità su valori medio-alti Le temperature previste sulla costa tra 5 e 14 gradi Nell'entoterra tra meno 2 e 12 gradi Grazie a tutti